Una nuova sede per la Proloco di Mazzara del Vallo, una succursale all'interno della via Porta Palermo al cortile Pozzo Regina, accanto a me la responsabile della Proloco, oggi nello specifico si organizza anche una manifestazione con i bambini, una caccia al tesoro, come sarà organizzata oggi questa caccia al tesoro ma soprattutto questa Proloco, quale sarà la sua funzione? Allora, la Proloco di Mazzara del Vallo che è attiva nel territorio già da 12 anni, quest'anno ha deciso in accordo con l'amministrazione comunale e con il contributo dell'amministrazione comunale di aprire una succursale, come ha detto Piera Pocanzi, nel cuore del centro storico, nell'antica Medina, sulla via Porta Palermo, una delle strade principali del centro antico della città. All'interno del cortile Pozzo Regina, oggi cortile Satali Viti, dedicato al brigande mazzarese Satali Viti, una succursale che è aperta il 25 di luglio e chiuderà il 31 di agosto, proprio per dare informazione ai turisti perché abbiamo in distribuzione anche la nuova mappa del centro storico, sempre realizzata dalla Proloco con il contributo del Comune, dove è indicato anche l'itinerario dei vicoli che finora sono stati realizzati dall'amministrazione comunale. Oggi abbiamo pensato di dedicare questa giornata ai più piccoli, realizzando e organizzando una caccia ai tesori della città di Mazzara, perché non sarà la classica caccia al tesoro, ma essendo una Proloco abbiamo puntato più sulla promozione turistica e soprattutto sulla promozione dei vicoli del centro antico, perché i bambini, che sono oltre 50, saranno organizzati in squadre e attraverso i vari indizi, perché ci sono dieci tappe diverse, tra cui una è proprio quella al punto di informazione turistica temporaneo all'interno del cortile Pozzo Regina, cercheranno e fotograferanno le parti più antiche e più interessanti della nostra città. Voi siete in prima linea per quanto riguarda il turismo. Facciamo uno specchio, una fotografia di quello che è stato il turismo qui a Mazzara del Vallo durante quest'estate. Allora, quest'anno devo dire che rispetto agli altri anni c'è un calo del turismo, anche se si vedono diversi turisti, però il boom si sta avvenendo negli ultimi giorni. Invece negli scorsi anni, iniziavano già a maggio, giugno, c'era più affluenza, forse per i collegamenti anche dell'aeroporto, perché alcuni voli sono stati cancellati, ma soprattutto perché c'è un attimo di carenza di collegamento tra l'aeroporto e Mazzara del Vallo e qualche piccolo servizio che manca. E non ci scordiamo anche la crisi. Purtroppo i turisti ci sono, ce ne sono tanti che vediamo girare per le vie del centro storico, perché distribuiamo la mappa non soltanto qui nel punto di informazione turistica temporaneo, ma anche nella nostra sede di Via 20 Settembre e all'interno degli uffici comunali, il museo per esempio del Collegio dei Gesuiti, dove là ci sono anche le impiegate che fanno un ottimo lavoro. Diversi turisti però spendono poco, infatti anche le attività commerciali, i ristoratori si lamentano. Bene, speriamo che questo punto turistico possa essere anche utile, non soltanto per i turisti, ma anche per i residenti, perché ricordiamo che non tutti i mazzaresi conoscono bene il centro storico, quindi è a disposizione anche dei cittadini mazzaresi. Sì, senz'altro. Tra l'altro ogni giorno alle 18 facciamo anche degli itinerari guidati per le vie del centro storico. Ne abbiamo fatti diversi non soltanto per i turisti che ci sono in città, ma anche per i mazzaresi. E poi un'altra nota importante è quella che tutti i residenti e le attività come Spina, Cristaldi, anche il ristorante tunisino, sono contenti di avere questo punto, perché non dimentichiamo che un immobile ha confiscato la mafia, un immobile chiuso da tempo all'interno di uno splendida cornice, perché queste maioliche hanno arricchito la location, e quindi abbiamo avuto pure dei complimenti da parte dei cittadini e dei residenti sulla via Porta Palermo. Un altro appunto che volevo fare è ringraziare i volontari che ci stanno supportando, i vigili del fuoco in congedo che collaborano da diversi anni con la nostra associazione, quindi grazie a loro possiamo tenere aperto questo spazio, non soltanto i volontari della Proloco, ma anche i volontari della protezione civile, nello specifico i vigili del fuoco in congedo. Accanto a me Giovanni Ditta, presidente dell'associazione dei vigili del fuoco qui a Mazzara del Vallo, voi collaborate in primis con la Proloco di Mazzara del Vallo, qual è il vostro ruolo all'interno di questo circuito? Sì, da anni che collaboriamo con la Proloco appunto per dare l'assistenza come logistica con i nostri volontari, e inoltre abbiamo del materiale di primo soccorso qui nel punto logistico di Pozzo a Regina. Abbiamo i nostri volontari che ogni pomeriggio sono impegnati nell'apertura di questo punto e forniamo appunto le informazioni, siamo stati adeguatamente informati da Liliane e da tutto lo staff della Proloco. Cosa ne pensi di questa manifestazione di questo pomeriggio? Con questi ragazzini sono tantissimi da gestire. Sì, assolutamente, sono 50 bambini circa, quindi abbiamo schierato un bel gruppo di volontari a supporto di questa manifestazione appunto per garantire la sicurezza loro, dei bambini, soprattutto nel centro storico, per quanto è possibile, per quanto ci concede la normativa e le leggi appunto nostre. Accanto a me il dottore Ditta, una manifestazione quella di oggi che aiuta, potremmo anche definirlo turismo, perché è quello dei ragazzini che sono loro che devono imparare a conoscere la propria città. È proprio così, hai detto benissimo perché anche in questo contesto dove la nostra città sta spendendo tutte le energie e soprattutto l'amministrazione Assino Cristaldi che crede su questo programma e progetto di grande sviluppo turistico, coinvolgere i bambini oggi è stata una cosa, ed è una cosa giustamente alquanto produttiva perché ci dà la possibilità di capire che tutti siamo interessati a questa città poter promuovere il turismo. E queste iniziative che passano attraverso il prologo, dove c'è piena collaborazione anche dei volontari, dove giustamente ognuno mette il loro contributo e quindi costituiscono un insieme, sicuramente porterà questa città ad un grande futuro anche sotto l'aspetto turistico. Quest'anno c'è stato un piccolo calo di turismo, magari per l'anno prossimo si potrebbe organizzare qualcosina in più per incentivare l'arrivo di turismo a Mazzara? È indubbiamente vero anche questo, perché devo essere onesto, rispondo a verità. Ci sono dei fattori che sono esterni alle nostre volontà, quindi fattori semplicemente di carattere di natura economica e di crisi. Però diciamo che questo mese di agosto sta rispondendo bene, perché abbiamo già sotto controllo e monitorato diverse strutture recettive a cui ci stanno dando delle informative che, ringraziando Dio, stanno andando bene. Quindi solo per il mese di agosto forse si svolgerà tutto nel pieno del merito di quelle che sono le aspettative di chi è operatore del settore.